Arezzo sarà la prima città toscana ad ospitare il triennio di musica applicata, un diploma innovativo e professionalizzante che formerà musicisti in grado di operare nelle professioni musicali connesse alle tecnologie del suono e alla progettazione di eventi multimediali. Il corso accademico di primo livello, progettato dalla Scuola di Musica di Fiesole, sarà infatti ospitato dal prossimo ottobre alla Casa della Musica di Arezzo. La nostra Casa della Musica di Arezzo si arricchisce attraverso i corsi che impartisce la Scuola di Musica di Fiesole e di un nuovo corso di laurea triennale legato alla musica applicata, quindi a tutta quella parte di attività musicali che si riferiscono alle attività legate al cinema, al teatro, a tutto ciò che ha anche un contenuto musicale pur non essendo solo musica. Un passo avanti verso una definizione ancora più completa dell'offerta musicale di alto livello in città. Il corso è curato da docenti di elevate esperienza e competenza nei settori della musica elettronica, dell'informatica musicale, della composizione musicale per il cinema e della fisica acustica. Il triennio avrà la particolarità di non avere un indirizzo specifico ma cercare di formare i ragazzi con una pluralità di approcci, tra cui quello tecnologico, in modo che possano impiegarsi nei vari settori che oggi presenta il mondo dell'audiovisivo.